Allora Talè, questo bel intervento sulla scuola Dezzi di Saltara però si contestualizza in un discorso più ampio che tutta la regione sta facendo su diversi territori? Sì, la regione sta facendo naturalmente un'emanazione del governo, questo governo ha stanziato quasi 2 miliardi di euro per le scuole e gli edifici scolastici, per il rischio sismico degli edifici scolastici e su questi quasi 2 miliardi di euro ha stanziato per la regione Marche 41 milioni di euro. Di questi 41 milioni siamo riusciti a portare nella nostra provincia, insomma la provincia di Pesaro, 12 milioni di euro. Siamo riusciti ad averli per diverse scuole, io qui me ne sono segnate, a Pecchio ad esempio 1 milione e 400 mila euro, Fermignano 910 mila euro, Mercatino Conca 635 ma per venire più vicino a noi Monteporzio 998 mila euro, Terre Roveresche 430 mila euro e Lanuti di Fano, siamo a Fano 500 mila euro. Montelabate 1 milione 281, Mondolfo 1 milione 625. Sono tante le scuole che hanno bisogno di queste manutenzioni, di queste ristrutturazioni, quindi siamo ben felici di aver portato questi soldi qua nella nostra provincia proprio perché siamo anche certi che i nostri ragazzi debbano avere il sacro santo diritto a frequentare le scuole, ma scuole che siano sicure.